persona essenziale nella scorsa ma ancora di più in questa Maker Faire nell'aiutarci a risolvere N problemi nel fare anche la selezione dei progetti e dei dieci finalisti. Alessandro, com'è andata? Hai il momento? Sì, quindi sono dieci progetti fra i 500 della Maker Faire che domani su questo palco si sfideranno, 100.000 euro in palio la giuria è formata da Neil Gersh, Bruce Sterling e Simona Maschi alle 4 del pomeriggio, con le tifoserie 100.000 euro tagli avanti e ha detto che alla fine si era dimenticato ma li mette Allora, in ordine casuale, i progetti sono Flytec Unity of Flight di Jonathan Diliberto un esoscheletro provvisto di una unità di volo per operazioni di soccorso e gestione emergenze il secondo progetto in lista è Glare Smile, il primo spazzolino 3D che lava automaticamente i denti con la tecnica corretta in soli 10 secondi Poi abbiamo il Maker Economy Starter Kit di Wasp un progetto esportabile che sostiene un nuovo modello di sviluppo interamente incentrato sulla autoproduzione Abbiamo il PD Watch di Luigi Battista il dispositivo indossabile, un orologio indossabile per i pazienti con morbo di Parkinson Poi abbiamo dal Regno Unito Ultra Bike di Sound4Sight Technology è un kit che permette a persone di tutte le età non vedenti o ipovedenti di andare in bicicletta Poi abbiamo Talking Hands di Limix un dispositivo completamente indossabile capace di tradurre la lingua italiana dei segni in voce Poi abbiamo K-Now Casting di Artis innovazione nel monitoraggio dei rischi indotti da piogge tramite l'analisi del segnale TV satellitare ricevuto da comuni antenne paraboliche Poi abbiamo Baby On Board di Open Biomedical Initiative la incubatrice open source a basso costo è stampata in 3D Poi abbiamo dalla Slovenia il progetto Coruza dell'Irnas il primo sistema ottico wireless open source per trasmettere dati in ambienti urbani capace di trasmettere fino a 1 o anche 10 gigabit E infine abbiamo Boutiful Box di Maurizio Piredda che è la prima console di gioco intelligente che utilizza tutti i sensi del cane per intrattenere l'animale in modo totalmente autonomo mentre il padrone non è in casa Tutti questi progetti sono in esposizione a Maker Faire nei vari padiglioni li riconoscerete perché hanno un fondale che sarà messo adesso, nella prossima mezz'ora Li abbiamo avvisati che sono in finale? Li abbiamo avvisati ma non ci hanno creduto Ok Massimo Che posso dire? Tanto che ci vediamo domani domani sul palco ci sono i 10 progetti, 10 finalisti zero politica dico buona notizia solo progetti, solo Maker domani pomeriggio alle 4 qui Grazie di aver resistito fino adesso Grazie di aver resistito, lo dico anch'io Tra l'altro con Massimo e Simone e Bruce Sterling c'è anche un incontro domenica mattina per parlare di come è andata la Maker Faire e per riapprofondire i temi di oggi e con Neil Gershefel domani alle 12 con i Fab Lab italiani Grazie a tutti e ci vediamo Grazie a tutti Ciao Buona Maker Faire Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti